Vi servono crediti? FIFA15CoinSmile troverete il link e il codice coupon qui in descrizione Sono veloci, affidabili ed economici Bentornati ragazzi su Giovi HD SPO Ed eccoci qui con un nuovo video, un nuovo pacco opening Perché? Perché lo scorso video ha raggiunto e superato i 25 likes come vi avevo chiesto E quindi vi dico grazie Voglio che anche questo video arrivi e superi i 25 likes per poter caricare il prossimo pacco opening So che vi piace vedermi, ascoltarmi mentre sbrocco a non finire Perché nei pacchetti non esce nessuno, quasi nessuno diciamo E quindi sono qui con un nuovo pacco opening Questa volta andrò ad aprire pacchetti da 25k e da 15k Però non mi divulgo tanto in chiacchiere Divulgo tanto in chiacchiere e apriamo il primo pacco Hazard su questa copertina E ci esce 83 pacfan Insomma Prossimo Andiamo in per te Alla riscossa Alla riscossa Riscossiamo qualcosa Ma va a fengapa Gerard Non c'è due senza tre Il terzo pacchetto sarà la terza merdata della giornata Tiago, 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 tiago Vai, Agard Dai Vai 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 a facculo Vai 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 a facculo Vai 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 a facculo Questa volta Io pronostico Sto facendo un pronostico Pronosticamente Equivalmente a un gioco di merda da 81 Da 80 addirittura 80 Francesco Totti Il capitano Oh guard Tu ci porterai Un altro caccone Un'altra caccata Tu ci porterai Un'altra caccata E che parlo a far E che parlo a far Oh guard Fai il bravo Oh guard Fai il bravo Fai il bravo E insomma Non sei proprio bravissimo Guarda Bene Questo è l'ultimo pacchetto Da 25k Vorrei andare ad aprire altri pack Da 15.000 crediti Non mi fermo qui Ah dai Meno male che ne sono finiti Quelli da 25k Perché veramente fanno Cacare Pacchetti oro 15.000 crediti Vai Il primo Il primo da 15.000 Questo secondo me Esce un super mega Iper Messi Super Messi Che cazzaroletta Messi C'è anche il tuo Sosi accanto C'è il tuo doppione E Messi 84 Schneider Schneider A meno Un giudatore Più forte di overall Non mi fermo Sono infermabile Sono infermabile Mi fermerò Soltanto Appena troverò il terzo Rani Perché questo è il secondo Dai Questa volta C'è il doppio hazard Per questo Qua sto pack Da 15.000 crediti Mi porto il conto Mi senti i pack che apro Eeeh 76 Smalling Dai Fai il bravo Fate i buoni Fai il buono Se no A Natale Non ti do niente Non ti do il regalo Da niente un giocatore Raro Oro raro Vaffan Cappola Fai il bravo Fai il bravo Non fare il monello Fai il bravo Fai il bravo E la puttana di Eva Non so più cosa dirti Ora io dico Dai Fai uscire qualche cacata Fai uscire qualche cacata Cacata A meno ci azzecco Qualche cacata Ture 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 Capi di cazzo E finalmente Porca di quella troia E porca di quella troia E che cazzo Dai Non dobbiamo trovare Dobbiamo trovare le cacate Questa volta dobbiamo trovare Solo cacate Dobbiamo trovare Solo solo cacate Troviamo una cacata pazzesca E' una cacata pazzesca E infatti E se provassi a dire Facile.it 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 Godin Sto sputtando completamente Suo schermo Allora proviamo con Messi.it 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 Ed esce Che il cocasilla Ronaldo.it Proviamo con Ronaldo Ronaldo.it 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 www.ronaldo.it Cerca su google www.ronaldo.it Vi riuscirà Ronaldo nei pacchetti E infatti Non esce il cazzo La roletta Non esce proprio Un cazzo Di niente Di niente Di niente Di stranieri Se non vestibio Guarda Dai Almeno facciamo Fatemi uscire un if Che ne so io Giusto per Un po' di Di savoir faire Un po' di soddisfazione Nel aver trovato Una carta nera 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 Ed esce Ma tui di Insomma dai Ma tui di Questa volta non dico Nessuno.it Dico Nessuno.it Nessuno A meno questa funzione Nessuno.it Nessuno.it Cercate su google Nessuno.it Oppure www.nessuno.it Ed uscirà Nessuno Ah Beh 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 Abbiamo trovato Un if Ragazzi Un if Il primo if Di questo Pag opening Si tratta di Mustasso Il bug Del Fenerbace Proviamo ancora Con nessuno.it Nessuno.it www.nessuno.it www.eroticoglioni.it Ed esce Rakitic Beh insomma Rakitic Riproviamoci Nessuno.it 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 E funziona E funziona Funziona A quanto pare Funziona Nessuno.it Infatti Non esce Nessuno Particolarmente Questa volta Lo apro E sto in silenzio Zitto Zitto Ed è meglio Che se parlo Perché se sto zitto Esce una cagata Pazzesca Messi.it www Uscirà Messi nei pacchetti Punto It Senza punto interrogativo Punto It Call Di nuovo Di nuovo Call E giorgia Call 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 Vai 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 Rodrigo Insomma E qui Ci esce Un bel Niente 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 Ed esce Niente Esce Valencia A me non fammi uscire Mata Non Valencia Mata E i più popolari Oro Premium Maxi Oro Premium Maxi Fottutamente Schifoso Perché non si trova un cazzo Si trova X Belliculeta Ultimi due pack Che andrò ad aprire In questo pack opening Facciamo VV Nessuno Punto it Oppure VV Punto Nessuno Uscirà nei pack 84 Nesdri E fai uscire Aguero Fammi uscire Aguero Nonna Aguero Dai Un ultimo pack Che si porta alla conclusione Di questo pack opening E sullo sfondo Di questo pack opening Vi ringrazio per aver visto il video Se volete Iscrivetevi Al canale Se non siete già iscritti Arriviamo a 25 likes Per il prossimo pack opening E dunque ragazzi Ditemi Se volete altri pack opening E arriviamo a 25 likes Per il prossimo pack opening Qui è il Joey Sport E vi saluta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti